Ciao a tutti, io sono Andrea e oggi all'interno di Adobe Photoshop andremo a vedere come rimuovere l'acne da questa foto. Come vedete non ha soltanto qualche piccolo difetto la foto, ma ha anche delle macchie rossastre, quindi tra virgolette è l'acne. Ho già fatto velocemente un esperimento prima su questa foto, vi faccio vedere quale è il risultato, così sapete che risultato andremo a raggiungere all'incirca. Come vedete non ho solo rimosso i difetti, ma ho anche tolto le macchie di rossore che sarebbero difficili da togliere con il semplice strumento rimuovere o con il semplice strumento timbro clone, per intenderci. Bisogna fare un piccolissimo passaggio in più, niente di particolare. Vado ad eliminare il mio gruppo dove c'erano tutti i livelli che ho utilizzato per sistemare questa foto, che comunque parliamo di tre livelli, non stiamo parlando di tantissimo. Ora la prima cosa che dobbiamo andare a fare è andare a rimuovere questo rossore eccessivo. Lo andiamo a fare tramite un livello di regolazione, tonalità e saturazione. Ora se io andassi a modificare qua naturalmente si modificherebbero le tonalità di tutta l'immagine. Faccio CTRL Z per tornare a 0. Anziché su composita andiamo a selezionare i rossi. In questo modo lui andrà a cambiare solo e unicamente le tonalità verso il rosso all'interno della nostra immagine. Naturalmente la pelle all'interno ha delle tonalità tendenti al rosso, quindi non possiamo semplicemente fare così e rimuovere il rossore, perché come vedete lui va a cambiare le tonalità di tutta l'immagine. Quello che dovremmo fare noi è utilizzare questo strumento qua in basso per sistemare un po' questa cosa. Ora andiamo a modificare totalmente sbagliata l'immagine in questo modo. Facciamo così perché dobbiamo vedere esattamente quali parti Photoshop va a selezionare. Con lo strumento qua sotto vi spostate con questi marcatori in modo da selezionare il più possibile solo e unicamente le zone veramente rosse dell'immagine. Vedete tutte queste zone qua. In questo caso ho selezionato anche le labbra e questa zona del naso, un po' le orecchie che dopo comunque andremo a cancellare. Una volta che avete fatto una selezione più o meno di questo genere, riportate tutti i valori a zero. In questo modo la vostra selezione è rimasta come l'avete modificata, però andiamo semplicemente a spostare la tonalità leggermente verso destra per andare a cercare un colore più naturale della pelle. Naturalmente le macchie non spariranno per il momento, rimarranno, ma perlomeno andiamo a unificare molto di più la colorazione della pelle. Disattiviamo e attiviamo un attimo il livello di regolazione per vedere bene. Come vedete è già molto più uniforme dal punto di vista dei colori. Naturalmente ha colorato anche alcune parti che non vanno colorate. Selezioniamo la nostra maschera di livello. Prendiamo un pennello, solita regola delle maschere di livello, tutto quello che è bianco si vede e tutto quello che è nero non si vede. Quindi andiamo a colorare di nero su per esempio le labbra, su magari questa zona del naso che magari dà un po' più di profondità, questa zona dell'orecchio che è andata a toccare e noi comunque non ci interessa. Dopo verso la fine comunque andremo a riprendere anche un po' di rossore generalizzato della pelle. Una volta fatto questo andiamo a creare un nuovo livello vuoto, lo mettiamo in mezzo tra la nostra foto e il livello di regolazione. Prendiamo lo strumento pennello correttivo al volo. A questo punto dovete selezionare corrispondenza per vicinanza e campione a tutti i livelli. In questo modo, anche se noi clicchiamo sul livello che è vuoto, lui andrà a creare la correzione su questo livello senza intaccare l'immagine originale. Quindi per esempio andiamo a rimuovere questo. Usate sempre un pennello che sia il più possibile vicino dal punto di vista delle dimensioni di quello che andate a rimuovere. Non fate una cosa del genere, non usate un pennello grande per rimuovere un piccolo difetto. Usate solo il minimo indispensabile. In questo modo. Io lo sto facendo modificando con la tastiera tenendo premuto tasto Alt, tasto destro e mouse, andando a destra diventa più grande, andando a sinistra diventa più piccolo. Facciamo così. E lui ha rimosso. L'immagine originale non la toccate, infatti se io nascondo questo livello il brufolo ricompare. Se nascondo l'immagine di sfondo, vedrete che c'è un livello solo e unicamente con la correzione che lui ha creato. Riattiviamo e andiamo a rimuovere con questo strumento prima tutti i difetti singoli, quelli che sono da soli, poi dopo andiamo a lavorare un po' di più sui difetti un po' più importanti. Cominciamo prima dai piccoli, perché sono quelli solitamente più facili da rimuovere. Naturalmente questo dipende molto dalla vostra immagine, però comunque in linea di massima è un progetto molto molto veloce da fare. Qui potrebbe creare un po' di difficoltà con i capelli. Esatto, magari se non vi convince quello che avete appena fatto, ricliccando più volte lui va di nuovo a campionare tutti i livelli e va a fare di nuovo l'operazione. Una soluzione, comunque potete sempre tornare indietro quando volete un CTRL Z. Su questo livello, che come vedete sta creando solo i punti che noi andiamo a cliccare, possiamo in qualsiasi momento andare a cancellare e a rifare completamente tutto. Basterà prendere lo strumento gomma e cancellare. Se vi sbagliate potete sempre fare anche CTRL Z e tornare indietro di un punto, per esempio questo puntino qui che in realtà è un neo, quindi non serve neanche da togliere. Però se uso un pennello grande, vedete che i capelli vengono tagliati, non è bello. Invece lo uso piccolino, proprio appena appena da coprire il difetto e nessuno ci accoggerà mai di niente. Una volta fatte le zone più piccole, adesso questi sono nei ma per completezza del tutorial li elimino, andiamo a fare le aree un po' più grandi. Non preoccupatevi se non sembra subito bello, se non sembra subito realistico. Potete passare più volte sulle stesse zone, finché non troverete un risultato che vi piace. In alternativa allo strumento correttore al volo, potete usare un po' lo strumento timbro. Naturalmente ora non è un tutorial completo sullo strumento timbro, trovate un mio video su questo argomento sul canale YouTube. Comunque in poche parole, col tasto Alt è andato a campionare una zona e cliccando lui la riporterà. Ora in questo caso torno indietro e non lo faccio perché non è esattamente perfetto il risultato, bisognerebbe lavorarci di più. Vado a rimuovere un po' le ultime cose. In questo modo. Sì. Ok. In questo momento vado a riattivare solo unicamente l'immagine originale e come vedete abbiamo già fatto la maggior parte del lavoro. Ora questo non è un tutorial su come levigare o lisciare la pelle, anche su questo c'è un video dedicato sul canale molto completo, specifico per lisciare e levigare la pelle. In questo tutorial mi fermo semplicemente al fatto di rimuovere l'acne lasciando comunque la pelle originale. A questo punto possiamo ridare un po' di colore alla pelle se vogliamo. Andiamo a creare un uovo di livello. Prendiamo un pennello, un pennello morbido. Andiamo a campionare un colore di pelle un po' più scuro, un po' più rosso. Comunque possiamo anche andare a selezionarcelo da soli. Andiamo a colorare in questo modo un po' le parti a cui vogliamo ridonare un po' di rossore. Il nostro livello, come metodo di fusione, lo cambiamo. Andiamo su luce soffusa. Naturalmente potrebbe essere eccessivo, infatti lo è. Non è un problema, caliamo l'opacità. In questo modo abbiamo ridato un pochino di colore alla pelle. Non stiamo abbronzando il nostro soggetto, abbiamo soltanto dato un pochino di colore. Come vedete con tre livelli abbiamo fatto veramente, veramente tutto. Vi faccio vedere qualche prima e dopo. Come avete visto abbiamo messo veramente 6-7 minuti, è una cosa veramente, veramente veloce. Non ho trovato grosse difficoltà anche con immagini più complesse. I passaggi sono sempre quelli. Il primo è quello di rimuovere il rossore, che è il problema più grande dal punto di vista del fotoritocco. Dopodiché andate a rimuovere i singoli problemi e per ultimo andate a fare le ultime sistemazioni di tono, eccetera. Voi non avete in nessun modo mai toccato l'immagine originale, quindi in qualsiasi momento potete andare a recuperare informazioni. Oppure se vi accorgete che c'è ancora qualcosa che non vi piace, potete tornare sul vostro livello, su cui facevate tutte le vostre correzioni, riprendere lo strumento e per esempio andare a togliere anche questo. Un po' è questo qua. Insomma cose più piccole, non so se la maggior parte di quelle che sto correggendo addirittura le vedete da YouTube. Ecco, e come vedete abbiamo fatto la nostra immagine. Per questo video era tutto, se sei interessato ad altri tutorial di grafica, di fotografia, ti invito a iscriverti al canale o a visitare il mio sito web cesareandrea.com Io sono Andrea, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!